Ciao a tutti cacciotti e benvenuti in questo nuovo episodio di Happy Wheels con la zeta naturalmente, con la zeta questa qui, alziamo un po' il microphone, oh si that's how I like it, that's how I like it, smash smash boom boom shikalakalaka boom, allora, iniziamo subito? Iniziamo, allora come vedete gli episodi purtroppo ma anche per fortuna li tengo sui 10 minuti, dico per fortuna perchè potrebbe capitare perfino che non ci sono episodi alcuni giorni, quindi io cerco di tenere la costanza, ok? Quindi scusatemi se non sono episodi lunghissimi, ma in periodo scolastico non riesco a far di più, tempo è quello quindi shakalakalaka, barababam e lakarotador Blue jump fatto da Bromabuda, 1-1, ma a buttesco l'amantivo no basta, think you, think you, think you, thinky, 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 thinky binky binky bo, rabonzi bonsi bo, prendilo, bravo iniziamo bene, mannaggia i kabasisi, I believe I can fly smash, yo bro, yo yo bro, yo bro, this is how we go bro, La visa, la visa, la visa Nice sword tropic 18 più Non lo guarderò perché ha così poche stelline Che è praticamente una Quando hanno così poche stelline ragazzi Vuol dire solo una cosa Il livello fa carare Fa carare più caroso di così poche Mamma mia Mamma mia L'avventura di Nettuno Così poche Solo 3 voti E 6.000 Allora Avast Avast Ok l'antivirus Vabbè Conosce l'inglese Cioè non dico l'italiano L'inglese Ma che cazzo No anche da quel punto di vista è ancora una cazzata Io ci ho provato Ma che posso fare il miracolo io Cioè voglio dire My bud My bud First level Bad 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 Hard donation Fa che sia lunga Ok entriamo in un cannone Il cannone è rosso e arancione Cioè è azzurro Vengono sparati dentro uno spuntone Nello spuntone c'era una mia C'era una mia C'era uno spuntone Quindi vengono sparati Il cielo azzurro Il cielo azzurro Vediamo a sparare morti Morti Diamo morti No Il nostro cuore viene sparato dentro delle cose Che fa unidence E poi si curva Poi si curva Poi si scende E Harsh care Dentro di qua E gira 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 Boom E poi gira 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 Così Corta Perché Voglio del totale Nunga Cattivi Non ci sono più l'erdo, non esce di una volta Fa prima un po' la finestra, qua manca il fiato E a parlare sempre da solo Damp, pazzo New block level fix Cosa vuol dire fix? Vabbò Throw this block and grab the mini blocks If you win Merda Ok Sul serio, sul serio Prendilo Ok, calma No Allora, devo distruggere sta cosa Ma porco demonio Prendi qualcuno, prendine qualcuno Prendine qualcuno Prendine qualcuno T'ho detto Qualcuno Qualcosa Che cosa? Sì, piccoli cubetti miei Non godevo così Dall'elementare Ok Vai Prendine Prendine però Non ce la farò mai Prendine, prendine, prendi Ok, ho un mini blocco Vai Vai, vai, vai Sì Ok Il blocco della verità Il blocco della verité Fraternité e compopisce My first sword Basta questi sword throw Sword throw Prendi Ah Ancora, due sword throw Prendi la cosa Eh, eh, eh Eh, eh Tanto non ci riesco Sì, quelle erano le chiavi Kill them all Questo mi piace Fatto da Jason Jason Sword Allora, sword È una parola Eh, come si dice Esoterica Che sta per uno Quindi quello È Jason 13 Venerdì 13 Jason, capite Kill them all Tutto, tutto Un abbraccio Adam Ok Kill them all Beh, dobbiamo ammazzarli Con la persona Più Paurosa Più temeraria Che incuta Più timore La mammina Ah, bitch I'm gonna kill you all Peaches Merda È morta la mammina Che cosa sta facendo Perché sempre Che bilfona Guarda l'elfo Che fa con la bambina Cosa Questo è giusto È sbagliato Merda Ok Allora In questo caso Bisogna utilizzare La tecnica Del Degli Involtino Cioè Usa il tagliaerba Boom boom Mi piassa Ma muori Aia Io sono Su un tagliaerba Che sta Tagliaerbando Me stesso Quindi Tagliaerba Exception Mamma mia La spettacolarità Bottlerun Bottlerun Bottlu Bottlu Allora Noob Justin Bieber Good Pro Jim Bonacci Jim Bonacci Non è quello Che ha creato Happy Wheels Ok Ok Two easy Bitches Merda Oh yeah Suga Suga Ok Exit to the menu Because we can WWE Ma basta Questo WWE No Ok lo facciamo Ok Z Uaaaa Puuu Aspetta 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 Uaaaa Puuu Vieni qua Merda Cos'è MTB È MITB MITB Massachusetts Information Technology Banana Mmm Bello Bell'acronimo Mi piace Mi piace Sìh Sìh Ooooooooh colpo di scena che fosse un vero colpo di scena invece quello era un colpo di scena che non era un colpo di scena cioè era un colpo di scena che è un colpo di scena ma non è un buon colpo di scena cioè colpi di scena ragazzi colpi di scena cioè una scuola di scenografia regia qua proprio ammartellate sui cabasisi WWE game soon un impossible level ok proviamo proviamo penso che sia col poco che di solito sono tutti col poco this is my level offer by Marco Bellia penso sia italiano ok devo spingere il vecchietto oh si odora il mio culetto non mi sono fatto il bidet ah si aspetta boom e cadi oh oh merda senti no too good proviamo con qualcosa di più pesante go bitch ah ho capito porco demonio senti 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 go 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 ooooh ok e se provassi con babbo natale si si vai vai babbo natale si comunque per questo episodio è tutto via vi saluto ciao ciao giro della datt bitch 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 vada bitch 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 viiii un beviat uélé u 말 gu gu Grazie a tutti